Benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale, apriamo il nostro notizierio parlando di sanità perché oggi c'è stato il primo confronto ufficiale tra il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle e il nuovo direttore generale dell'ASP Salvatore Ficarra dopo la sosta obbligata della campagna elettorale. Pianta organica da implementare, pronto soccorso da aprire, nuova terapia intensiva da inaugurare, oltre che lo stallo dell'elipista, gli argomenti affrontati questa mattina. Vediamo. Dopo la sosta obbligata a causa della campagna elettorale sono ripresi questa mattina gli incontri periodici che il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ha avviato con il management dell'ASP. Oggi è stata la prima occasione utile per incontrare il nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria Salvatore Ficarra e riportare sul tavolo i problemi da risolvere nel settore della sanità locale. Pianta organica da implementare, pronto soccorso da aprire presto e nuova terapia intensiva da inaugurare, oltre che lo stallo dell'elipista, sono stati gli argomenti a cui Ficarra è stato chiamato a rispondere. I problemi collegati alla carenza dei medici sono sempre quelli più complicati da superare. In atto ci stiamo avvalendo di alcune cooperative esterne che ci stanno dando una mano, abbiamo anche chiuso degli accordi con i privati accreditati, perché la Regione ci ha dato delle somme importanti per ridurre le liste d'attesa e quindi ci avverremo delle collaborazioni sia con la Casa di Cura, che qua già è accreditata ovviamente col Servizio Sanitario Nazionale, che con tutti gli ambulatoriali accreditati nel territorio. Ci sono due discorsi in sospeso fondamentali per la città che sono quelli del pronto soccorso e quello della terapia intensiva. A che punto si ha? Pronto soccorso contiamo di consegnarlo alla città entro fine luglio. Per quanto riguarda la terapia intensiva, che è finita, abbiamo procurato già i letti, considerate che sono circa 200 mila euro il costo dei letti, già sono stati portati e collocati qui all'ospedale di Gela. Manca un collegamento che non era stato previsto dal progetto originario, ma che si deve prevedere per rendere funzionale la rianimazione. Siamo in attesa del progetto e già sappiamo che la Regione Sicilia, l'assessore alla sanità, ove necessario, ci integrerà il costo per renderlo fruibile. I senatori del Movimento 5 Stelle insistono affinché si trovino soluzioni concrete nel breve periodo. Nessuno ha la bacchetta magica, nessuno pretende che i nuovi direttori o il nuovo direttore faccia quello che non si è potuto fare in 4 anni, in 5 anni o in 10 anni per la nostra struttura ospedaliere, però questi incontri servono proprio a questo, ad affrontare insieme e sinergicamente le varie problematiche e laddove è possibile trovare delle soluzioni anche politiche. Abbiamo due senatori, come tutti sanno, e un deputato regionale. L'elipista, le somme ci sono, ancora c'è un problema di amministrativo, di convenzioni. C'è stata la campagna elettorale, il sindaco uscente aveva riscontrato alcune criticità, oggi c'è Terenziano Di Stefano e insieme a Terenziano troveremo la formula esatta affinché queste somme vengano spese e Gela abbia la sua elipista. Soddisfatto del cambio di passo avviato dal nuovo direttore generale è anche il senatore Pietro Lorefice. Un cambio di passo deciso, si vede che ora finalmente abbiamo un manager, ora i tempi saranno contingentati, il dottor Ficarra già immediatamente, pure in tempi reali, fatto avere delle informazioni chiamando gli uffici di Caltanissetta, noi assieme alla collega Chetti d'Amante, ma anche assieme all'amministrazione, a Filippo Franzone, a Terenziano Di Stefano e a Giuseppe Arancio seguiremo con attenzione passo passo. Riprenderemo quella che era la buona abitudine lasciata qualche mese fa, ci vedremo periodicamente, dico almeno ogni due settimane. La città di Gela, di tutto il territorio, perché non parliamo solo di Gela, ma dell'intera ASP, avrà informazioni. Assieme raggiungeremo nel breve tanti degli obiettivi che avevamo pianificato e parlato con la precedente direzione generale. Ribadisco, ora finalmente abbiamo un manager. E parliamo di emergenza idrica, i residenti di via di Nomane non hanno più alcuna fornitura idrica da 15 giorni ormai, una situazione molto grave attenuata solo dalle autobotti private e con costi sempre superiori. A nulla è servito l'acquisto di motorini autopescanti che finora in questa zona della città non erano mai serviti il servizio. Siamo esasperati, i residenti di via di Nomane hanno lanciato un appello, anche attraverso i social, rivolgendosi al sindaco di Stefano. Da 15 giorni non hanno più alcuna fornitura idrica. Una situazione molto grave attenuata solo dalle autobotti private e con costi sempre superiori. Spiegano che nelle strade limitrofe l'erogazione avviene, nelle loro abitazioni invece i rubinetti rimangono a secco. Non è che si può fare questa vita, siamo ormai anni, come non ci porta a chiamare l'acqua da sopra che è buona. E spazio non arriva a Gnavolo, non arriva a stare. Due famiglie, io sono sola, ma sono su due, 400 euro. Madruna sa detto mai l'acqua 400 euro. Chi non ha le cisterne deve stare con le gocce di acqua, non con l'acqua. Gocce. Ora stavo facendo le pulizie ma mi sto anche confondendo perché non so da dove iniziare perché acqua non genera. Io abito a quarto piano, sono una cardiopatica, non so che situazione bella abbiamo. Non abbiamo l'acqua ogni settimana, quindi dobbiamo fare la selezione ma non ci basta lo stesso. Questa non è una situazione bella, è una situazione brutta, specialmente qua a Gela tutti gli anni ce l'abbiamo questa cosa e non è giusto però. La sopra che non sale mai l'acqua, con tutto il motorino, quindi abbiamo le bollette che ci arrivano a 400 e 500 ogni volta che arrivano, l'acqua non è pagata di più. Ritengano possa esserci un problema tecnico alla base o un eventuale guasto e per questo hanno inoltrato solleciti a calta acqua ma senza risultati. A nulla è servito l'acquisto di motorini autopescanti che fino ad ora in questa zona della città non erano mai serviti. Dieci giorni che non abbiamo acqua, che dobbiamo dire più. Non riuscite a tirarla su nemmeno con i motorini? No, io ho comprato il motorino 15 giorni fa, è inutilmente. E' questo, chi compra i serbatoi, chi compra i motorini, è inutilmente. Se l'acqua non l'apre possiamo comprare tutto quello che vogliamo. Da tanto che sono senza acqua ho dovuto mettere anche il motorino e faccio lunghe nottate per vedere se arriva o non arriva. Per esempio la notte ero convinta che arrivava e invece no, poi inutilmente. Mi sono ciò che gli altri di notte. Siete stanchi, non ne potete più? Sì, specialmente io, sì. Mio marito anche perché si alza alle 4 di notte sia per andare a lavorare sia per salire sempre sul terrazzo e un gauss. L'appello dei residenti di via di Nomane non è passato sotto traccia. Il sindaco di Stefano ha preso contatti da subito con Caltacqua che ha assicurato la presenza dei tecnici domani durante l'erogazione prevista da calendario per garantire il servizio anche in via di Nomane. L'assessore Franzone comunica che dopo il sopralluogo ai pozzi Pantanelli domani è in programma un altro tavolo in prefettura, sempre con al centro la crisi idrica. Capisco perfettamente. Purtroppo siamo in un momento di siccità e di emergenza drastica. Siamo l'unica regione d'Italia ad essere in zona di emergenza rossa per la siccità. Alcune diga come il Fanaco, il lago di Pergusa o l'Ancipa che a breve si asciugherà ci stanno dando problemi per l'approvvigionamento idrico. Noi speriamo che in pochi giorni i pozzi Pantanelli possono essere integrati alla rete idrica di Gela e ci auguriamo che domani, abbiamo un incontro col prefetto, ci auguriamo che domani arrivi la notizia, speriamo che l'Eni possa concedere ulteriore quantitativo di acqua alla città in modo tale da poter alleviare questi disagi. I bollettini della TOSAP, recapitati già scaduti e con un aumento del 300% hanno fatto di fatto infuriare i gelesi che questa mattina in massa si sono regati al Comune per chiedere spiegazioni. Le aliquote al massimo purtroppo sono una naturale conseguenza del dissesto, spiega il sindaco Terenziano Di Stefano che però rassicura i cittadini sull'assenza degli interessi di Mora e su eventuali dilazioni. Vediamo. TOSAP alle stelle e cittadini infuriati. I primi effetti del dissesto si sono già fatti sentire la scorsa settimana quando a diverse famiglie gelesi sono arrivati con corposo ritardo i bollettini della TOSAP, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, una imposta che proprio a causa del dissesto finanziario dell'ente ha registrato aumenti del 300% per singolo cittadino. E così chi fino all'anno scorso pagava 40 euro si è visto recapitare a casa un bollettino da 150 euro, tra l'altro già abbondantemente scaduto considerato che la data ultima per il pagamento era fissata al 28 aprile. Una situazione che stamattina ha portato tantissimi cittadini al Comune per chiedere spiegazioni ed eventuali dilazioni. Dilazioni che ovviamente sarà possibile attivare anche se per l'aumento non c'è nulla da fare. Finché il Comune sarà in dissesto, tutte le imposte saranno aumentate al massimo dell'aliquota prevista, come spiega il sindaco Terenziano Di Stefano, che per ora assicura i cittadini sull'assenza degli interessi di mora e su eventuali dilazioni di pagamento. Tutti i tributi comunali purtroppo hanno risentito del dissesto, però ovviamente tengo a precisare, così come già è riportato anche nelle comunicazioni che sono arrivati ai nostri concittadini, che quell'importo non sarà intaccato d'amore e interessi qualora dovessero essere pagati con una dilazione di pagamento un po' più larga e in più c'è la possibilità di pagare in maniera dilazionata questo importo. L'impegno della mia amministrazione è quella di arrivare nell'arco di un paio di mesi all'adozione del bilancio stabilmente riequilibrato, che intanto ci darà la possibilità di sbloccare molti dei servizi che in questo momento sono fermi e in più quello di prevedere assieme all'organismo di liquidazione l'uscita da questo dissesto e quindi stiamo lavorando per portare il comune di Gela fuori dal dissesto e riportare quindi le tasse di nuovo come prima. Il primo cittadino torna però sugli strani tempi di consegna dei bollettini che nonostante la scadenza prevista per fine aprile sono stati inviati nella casa dei Gelesi solo dopo l'insediamento della nuova amministrazione. Io ho chiesto al segretario generale una relazione in merito perché posso capire i tempi tecnici per rielaborare diciamo le imposte da trasmettere ai nostri concittadini però farli arrivare e farli coincidere con l'insediamento della nuova amministrazione non mi sembra una cosa corretta come un voler scaricare la colpa immediatamente sulla nuova amministrazione. Noi non abbiamo votato quegli atti tra l'altro la pensiamo in maniera completamente diversa sul dissesto lo abbiamo detto anche in passato abbiamo purtroppo questa situazione, la affronteremo e poi vedremo dalla relazione che uscirà dal segretario generale se qualcuno praticamente ha dormito e non ha fatto il proprio dovere ovviamente prenderemo dei seri provvedimenti. Per quel che riguarda gli aumenti intanto le sorprese non si fermano alla TOSAP nelle prossime settimane arriveranno altri bollettini da pagare con aliquote portate al massimo un salasso importante per tutti i gelesi. Fino a quando non abbiamo l'idea chiara di quello che è il reale ammontare per uscire dal dissesto queste imposte che sono state aumentate dalla precedente amministrazione ma ripeto un atto dovuto per la questione di dissesto per ora non possiamo aggiungere altro. A proposito di dissesto il sindaco Di Stefano sta proseguendo le verifiche sul fronte della tenuta finanziaria del municipio il dissesto è un'incognita non da poco e nel percorso verso il bilancio stabilmente riequilibrato il primo cittadino va verso un primo incontro con i revisori, il servizio. Il dissesto e tutto ciò che ruota intorno agli equilibri finanziari del municipio sono tra le impellenze dell'amministrazione Di Stefano che si muove lungo un solco ancora tutto da definire. La scorsa settimana si è tenuto un incontro tra il primo cittadino e la segretario generale Carolina Ferro e la dirigente al bilancio Maria Concetta Bonfirraro. L'intenzione di Di Stefano è di accelerare per pervenire prima possibile al bilancio stabilmente riequilibrato sono necessari tempi precisi e soprattutto una piena collaborazione tra il settore bilancio e gli altri uffici municipali per questa ragione il sindaco ha rilasciato una direttiva interna per migliorare la fruizione di dati e documenti dai settori e farli confuire agli uffici finanziari una verifica comunque essenziale andrà fatta con i revisori dell'ente già con l'amministrazione greco il percorso non è stato risparmiato da stop netti e veti posti dall'organo di controllo a salvaguardia della tenuta generale Di Stefano ha intenzione di sondare il campo confrontandosi con i tre professionisti del collegio del resto ha deciso di mantenere per sé la delega al bilancio una riunione potrebbe tenersi in settimana soprattutto da lì passa il programma per portare a destinazione il bilancio stabilmente riequilibrato negli scorsi giorni inoltre il primo cittadino ha avuto interlocuzioni con i componenti e la commissione straordinaria di liquidazione è designata a livello ministeriale e che lavora nella ricostruzione di tutti i rapporti di debito e credito del municipio per il periodo fino al 2021 La cronaca è stata denunciata a piede libero perché nel bagaglio che aveva con sé c'era un tirapugni un 21enne gelesero in partenza dall'aeroporto Fontana Rossa di Catania con destinazione Malpensa un altro tirapugni è stato individuato e sequestrato un 32enne siracusano a sua volta in partenza dall'aeroporto Etneo l'attività di controllo è stata condotta dalla polizia di frontiera La politica, la compagine che non si riconosce nell'amministrazione di Stefano tenta di ripartire dopo la sconfitta al ballottaggio in settimana prima dell'esordio il nuovo consiglio comunale potrebbe tenersi un incontro per delineare una strategia comune il servizio La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano sta collocando i pezzi di un puzzle politico che in consiglio comunale ha tre colori con Dem, Civice e Grillini Oggi dovrebbe concretizzarsi un primo accordo verso la seduta ad aula di venerdì quando si insederà il nuovo consiglio comunale bisognerà eleggere il presidente del civico consesso dall'altra parte invece l'opposizione deve ristrutturare e ripartire da una sconfitta al ballottaggio piuttosto sonante sono diversi volti nuovi tra le fila dei partiti e delle liste che sono riusciti a superare la soglia di sbarramento in aula, come ha già preannunciato siederà anche l'ingegnere Grazia Cosentino battuta dal neosindaco Terenziano Di Stefano intorno a lei in campagna elettorale si era costituita un'alleanza tra moderati e partiti ufficiali del centro-destra in testa al primo turno ma poi crollata al successivo ballottaggio una strategia comune davanti ai numeri di partenza della maggioranza di Stefaniana pare necessaria gli esponenti di opposizione potrebbero vedersi a quanto pare proprio in settimana una verifica iniziale la loro per tentare di attivare ingranaggi tutti da rodare diversi esponenti di quest'area hanno già parlato di un'opposizione che sarà costruttiva si sono detti pronti a votare gli atti che saranno utili alla città tra i più esperti nella pattuglia che non si rivede in Di Stefano figurano sicuramente l'esponente di Avanti Gela Gabriele Pellegrino quello della lista moderati rinnova Giuseppe Guastella secondo in assoluto in termini di consenzi elettorali e il forzista Antonino Biundo che torna in consiglio dopo l'intervallo della precedente tornata ci sono poi la Melognana sarà a cavallo anche per lei un rientro all'assise il renziano Alberto Zappietro una prima volta assoluta per lui e il cuffariano Armando Irti a sua volta una new entry la parte del leone elettorale l'ha fatta l'imprenditore Angelo Caci ha superato il muro delle mille preferenze e venerdì toccherà a lui coordinare i lavori d'aula almeno fino all'elezione del presidente è stato eletto tra le fila della lista Lega Cosentino Sindaco nella quota del gruppo del candidato a primo cittadino infine tra i nuovi ingressi quello dell'avvocato Antonella Di Benedetto ha prevalso nella lista Sherra Sindaco e ha già spiegato che deciderà insieme al suo gruppo quale collocazione assumere tra gli scranni si è schierata proprio con Sherra al primo turno ma non ha espresso un appoggio pubblico a nessuno dei candidati che hanno affrontato il ballottaggio l'opposizione con in testa il centro-destra ufficiale si trova nuovamente lontana dal governo e la città e dovrà lavorare per rimodulare un progetto alternativo al governo di Stefano partendo però dall'ennesimo tentativo di unità interna ad oggi mai messo nero su bianco Caci ieri ha spiegato sul suo profilo social che è assolutamente lontano da qualsiasi politica degli inciuci ha inoltre indicato che le priorità attuali dell'amministrazione di Stefano non dovrebbero essere quelle degli incarichi e della spartizione dei posti Seppure fossero state indicate almeno sulla carta tempistiche decisamente più brevi i due musei cittadini rimangono chiusi e l'estate in corso trascorrerà salvosiluppi decisamente improbabili senza nave greca e senza museo archeologico il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore a ramo Viviana Altamore stanno formalizzando una richiesta di incontro rivolta all'assessore regionale Francesco Scarpinato che regge l'assessorato dei beni culturali per il sindaco e per l'assessore è un passaggio di rimente che consentirà il vero e proprio allestimento della nave arcaica nel sito di Bosco Littoria Parliamo di zona industriale perché intorno ai vincoli dell'area nord 2 dell'ex Asi non mancano i dubbi servirebbe un progetto di risanamento ambientale in regione intanto sono state trasmesse le carte del progetto di un nuovo insediamento produttivo al servizio L'area nord 2 dell'ex Asi negli ultimi anni è stata oggetto di tante valutazioni sfociate pure in ricorsi giudiziari pur essendo stata infrastrutturata e poi ricompresa nei confini della ZES manca però di interventi di risanamento ambientale dettati dal piano di gestione ricade nel contesto di Rete Natura 2000 e più volte il riferimento alla riserva biviere Emilio Giudice ha spiegato che sono esclusi nuovi insediamenti o interventi su quelli esistenti se prima non si concretizzerà un progetto di risanamento ambientale qualche tentativo in passato è stato abbozzato ma dalla regione non è stato dato alcun seguito uno dei progetti che si inseriscono nell'area nord 2 è quello dell'azienda locale Icaro Ecology che opera nel settore delle bonifiche si tratta della realizzazione di un proprio sito produttivo per le attività di bonifica dei terreni i vertici aziendali più volte si sono rivolti agli uffici comunali per gli ultimi assensi necessarie ed hanno intrapreso azioni giudiziarie ritenendosi danneggiati da uno stop prolungato le carte del progetto in quest'ultimo periodo sono state trasmesse agli uffici regionali per la sottoposizione alla procedura di valutazione di incidenza la documentazione tecnica le planimetrie e gli atti redatti dai tecnici sono stati inoltrati al dipartimento ambiente dell'assessorato regionale territorio ambiente gli imprenditori dell'azienda che opera anche negli appalti di Eni intendono andare avanti e completare l'iter per dare seguito ad un investimento programmato da tempo ma che si colloca appunto in un'area intorno alla quale le istituzioni locali ma soprattutto regionali non hanno fatto chiarezza E adesso un'ampia pagina dedicata allo sport dopo aver formalizzato gli arrivi dell'ex Enna Cocimanos da Palà Tosto SS il gelarino Volgi con l'estremo Catanese lo giudice 13 gol lo scorso anno in biancazzurro sempre più vicini il bomber ex modica Luca Savassa e il centrocapista ex profavara Vossa il servizio Sta nascendo un Gela grandi firme i quattro ex Enna Cocimano Sessa Zappala e Tosto sono soltanto i primi di una serie di arrivi che si pronunciano di spessore ripartiamo dalle riconferme oggi dovrebbe essere la volta Damiano lo giudice l'esterno Catanese sarà probabilmente il primo ad essere riconfermato del gruppo dello scorso anno 13 gol e 14 assist lo giudice sicuramente è stato tra quei calciatori che hanno mercato ma alla fine l'ha spuntata il DS Bonafini e con Cocimano e l'ipotesi Savasta potrebbe nascere un super attacco difficile invece la riconferma di Martinez sempre più vicino al Fasano in serie D anche Resuf appare vicino all'addio ci sono squadre di D che hanno fatto più di un pensierino resta in bianco azzurro il capitano Gambuzza così come sembra promesso sposo il portiere Di Martino c'è il pressing su Luca Savasta 20 gol lo scorso anno con la maglia del Modica c'è stato un incontro tra dirigenza e il procuratore del bomber si lavora sull'ingaggio ma le possibilità di vederlo in bianco azzurro sono alte difficile invece che arrivi il gelese Vincenzo Tuccio attratto dalla serie D nelle ultime ore circola un altro nome a centrocampo un play che garantirebbe ordine alla zona cruciale al rettangolo di gioco si tratta di Fabio Bossa 26 anni di Messina lo scorso anno alla Pro Favara gli indizi non sono casuali due anni fa il centrocampista Peloritano è giocato alle dipendenze di Andrea Pensabene che lo aveva voluto fortemente in rosa a proposito di Pensabene il tecnico sa che per vincere o lottare per farlo in eccellenza deve avere degli under preparati ed allora ha chiesto al DS Bonaffini di lavorare in questo senso non è escluso che un under titolare possa essere anche il portiere ma siamo ancora agli albori di eventuali trattative di certo le prime mostre di mercato sono indusiasmante e i tifosi dopo anni di amarezze adesso sogna d'occaperti una squadra che possa lottare per vincere l'eccellenza i kart acuto di Matteo Bagnato che ottiene la pole position nel cartodromo Concordia per la sesta prova della Coppa Italia ottava di zona e il portacolori del team Castorina finisce sul gradino più basso del podio nella OKN a causa di un contatto di gara mentre occupava saldamente la seconda posizione il veloce gelese non si vede costretto a recuperare senza poter lottare per la vittoria migliore il suo apprendistato nella mini GR3 Marco Pintaudi del team Lauria capace di ottenere un incoraggiante sesto posto finale nel giorno di Christian Coco il pilota di Palagonia riesce a rimontare fino al secondo posto transitando sotto la bandiera scacchia al photo finish alle spalle del maltese Zanepace ma stabilendo il miglior tempo sul giro in gara e concludiamo con il tennis successo di pubblico e partecipanti alla dodicesima edizione del trofeo Maglio Morriconi giunto alla sua dodicesima edizione 28 i partecipanti in finale sul campo in cemento del club nautico la spuntata è il catanese Marino che ha battuto in due set il giovanissimo Pisano il servizio il catanese Pietro Marino ha vinto la dodicesima edizione del trofeo Maglio Morriconi tennis valido anche come sedicesima prova del campionato siciliano sul campo in cemento del club nautico il 22enne tesserato con la Mediterraneo Sporting Club ha battuto 2 a 0 6-2 6-3 il giovanissimo Mattias Pisano tesserato con la Planet Canicati il sedicenne di origine bergamasche che si allena con il country club di Palermo sotto la guida di Cina ha provato a tener testa al più esperiente avversario Marino ha indirizzato subito la gara mostrandosi solido in difesa e più lucido nei momenti topici degli scambi dopo aver strappato il break sul 2 a 1 si è ripetuto sul 5 a 2 chiudendo con il servizio il primo set 6-2 anche il secondo stesso copione con il break sempre sul 2 a 1 una sola palla break concessa al giovane avversario e chiusura finale sul 6-3 divertito il pubblico che ha affollato i gradoni della tribunetta del club nautico per Marino si tratta il secondo successo dopo quello del 2022 ho gestito abbastanza bene la partita in maniera ordinaria senza strafare senza fare cose esagerate lui si è avuto qualche buon colpo però alla lunga diciamo che alla fine i scambi li vincevo io alla lunga il movimento italiano cresce veramente bene questo vi dà un stimolo anche voi siete giovani di provare a migliorarvi ogni giorno sempre di più sì soprattutto perché i ragazzi che stanno facendo molto bene sono tutti del mio anno sono 2001 sono tutti 2001 2002 la maggior parte Sinner Coboli Hernaldi eccetera quindi sono ragazzi che conosco alcuni più bene di altri ma che comunque conosco e che nei tornei ho affrontato junior ora magari loro sono un po' più avanti rispetto a me però sì sicuramente dà un grosso stimolo un'ottima motivazione sicuramente lui ha sicuramente lui ha molta più esperienza di me io ho dato il massimo ho fatto quello che potevo alla fine ha avuto meglio lui e niente mi sono divertito è stata una bellissima esperienza spero che il pubblico si sia divertito e niente alla fine questa è la cosa più importante la partita che noi abbiamo visto dalla nostra tribuna è che col rovescio delle mani a incrociare andavi fortissimo col dritto qualche errore gratuito lo hai commesso è lì che forse devi migliorare sì diciamo che dalla parte del rovescio mi sento più solido come mi hai detto che si è visto da fuori e col dritto riesco a fare molto più male ma ogni tanto lo perdo come probabilmente è successo oggi soddisfatto il presidente Giacomo Iozzo il direttore del torneo Ennio Greco che ha voluto ringraziare anche i main sponsor lo studio di ingegneria Iudice e la IE Holding cui si deve anche il Montepremi è un'istituzione ormai che si perpetua negli anni speriamo di farlo diventare sempre migliore grazie agli sponsor all'ingegnere Iudice naturalmente perché senza la sua sponsorizzazione tutto questo non sarebbe stato possibile devo ringraziare assolutamente in particolare Ennio Greco perché è l'anima del torneo lui che si sacrifica non per un mese ma per un anno intero per arrivare poi a questa conclusione sono stati in totale 28 i tennisti in campo che si sono sfidati appuntamento al prossimo anno bene questo era il nostro ultimo servizio siamo in chiusura naturalmente se volete approfondire tutte le nostre notizie le trovate sul sito www.quotidiano.it se invece volete rivedere o condividere tutti i nostri servizi li trovate tutti sulle nostre pagine social facebook instagram e youtube per il momento è tutto vi lascio come di consueto alle previsioni meteo grazie per averci seguito arrivederci a presto a presto a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti.